Senatore Pagano, le ragioni del no sono state spiegate questa mattina in questa conferenza stampa, un movimento forte e anche trasversale il vostro? Sì, è iniziata in modo apparentemente residuale questa battaglia del no, ma oggi sta diventando una battaglia straordinaria, una trasversale, sempre più partiti, persone, costituzionalisti, semplici cittadini, giornalisti, anche di fama nazionale, stanno prendendo posizione per il no contro una presunta riforma che di fatto riduce la rappresentatività, toglie voce ai cittadini, ai sindaci, ai territori, soprattutto nelle regioni minori, è una pseudo riforma asimmetrica che darà paradossalmente più forza alle regioni già oggi forti come la Lombardia e toglierà invece rappresentanza e forza a regioni minori come per esempio l'Abruzzo, la Basilicata, l'Umbra, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, cioè tutte le regioni minori saranno particolarmente colpite e le zone meno popolose non avranno più il loro rappresentante. A fronte di cosa? Poi una riduzione dei costi ridicola, un euro all'anno, un caffè all'anno per ogni cittadino e senza che la struttura, il Parlamento, possa funzionare meglio perché funzionerà peggio. Io penso che un referendum costituzionale debba stimolare soprattutto i cittadini che pensano diversamente, che si vogliono opporre a una sciagurata riforma populista, demagogica, antipolitica del Movimento 5 Stelle per andare lì e dare un segno evidente che l'Italia ha superato la fase dei mal di pancia, ha superato la fase dell'antipolitica, pensa che tenere salde le nostre istituzioni, la nostra rappresentanza, la nostra Costituzione sia fondamentale e quindi soprattutto costoro, le persone più sensibili vadano a votare e votino no. Quanta sarà la percentuale? Non so immaginarlo, ma sono convinto che si ribalteranno le previsioni della vigilia e cioè che vinca il no.